ragazzi giuro questa non la sapevo sulla rai rai news 24 c'è il tg ucraino con una che parla in ucraino con i nostri soldi del canone rai il tg ucraino dio bonino ma si può e le altre comunità perché non c'è il tg rumeno il tg algerino il tg spagnolo il tg ucraino ragazzi il tg ucraino con tutta voce is in eco privit takvia mia родина вся v ucraini a ya alucina ера я вместо льvova i mohna scozi acca tipa albic